ciao a tutti ciao 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 come state spero bene spero bene so come la situazione lì in italia mi dispiace tantissimo davvero qui la situazione ancora diciamo normale perché c'è solo per esempio qui è l'abitudine anche quando vai al lavoro trovi delle persone che conosci dai la mano e baciano le guance adesso è vietato si saluta solo col buongiorno con la voce e basta ci sono cartelli dappertutto lavarsi spesso le mani come lavarsi le mani ed è tutto adesso lunedì fermeranno le scuole 15 giorni ma anche perché ci sono le elezioni e per cui solo le materne fermano le scuole e tutto qua però si può andare dove si vuole puoi andare a fare la spesa puoi andare il ristorante puoi andare al supermercato diciamo che ancora tutto normale non lo so spero spero dal cuore che questa cosa si risolva nel più breve tempo possibile anche perché i miei figli sono tutti e tre in italia e nelle zone più colpite in questo periodo il mio pensiero andava loro tutti i giorni chiamo tutti i giorni loro mi chiamano e dicono stai tranquilla non è così non è così non è così ma so che è così e speriamo bene dai mia figlia è la più grande che va a lavorare tutti e tre ma l'hanno fermata la polizia hanno gli hanno chiesto doveva lei ha detto lavoro tornava dal lavoro gli hanno chiesto il permesso la permesso per andare a lavorare gliel'ha fatto vedere e in più gli hanno chiesto anche che strada fa e quanti chilometri ha per andare a casa perché può andare solo da casa lavoro io penso che neanche in guerra erano messi così però so che stanno facendo per il nostro bene che questo virus non riesca più a dilagarsi in modo così veloce ho letto un'ora fa che Zaya vuole fare i tamponi fuori dai supermercati per individuare i portatori sani perché o i positivi asintomatici perché sono loro che magari non sentono non hanno sintomi però propagano il virus ad altre persone ed è una cosa giusta secondo me si deve fare tutto il possibile per contenere questa cosa non dico altro perché io non posso dare consigli non sono medico non sono nessuno per dare consigli posso solo come voi sperare che questa cosa si si risolva presto e l'Italia torni ad essere il bellissimo paese che era speriamo bene spero che tutti voi le vostre famiglie i vostri cari le persone a cui volete bene ma anche tutti gli altri stiano bene anche i malati quelli che sono stati contagiati che possano guarire presto e così oggi è stata una bellissima giornata c'erano 21 gradi però dentro casa ancora fa freschino perché i muri non sono ancora caldi e per cui fuori fa caldo e dentro fa ancora freschino però ho aperto tutto fino a poco fino a dieci minuti fa era tutto aperto c'è ancora il sole qua sono stata senza internet 10 giorni perché il proprietario di casa ha cambiato operatore senza dirmi niente per cui mi sono trovata all'improvviso stavo guardando una serie sul computer ma per caricare ho detto ma no se devo caricare un video così colgo l'occasione per fare gli auguri lo so che è passato ma gli auguri a tutte le donne perché secondo me le donne sono forti grandi le donne fanno cose che gli uomini non possono neanche immaginare senza togliere niente a loro per carità però auguri in ritardo ma con tutto il cuore lo stesso e niente sono successe tante cose volevo fare una live a tutti una live un video a tutti i costi sul dopo la live che ha fatto la falsa su Giuseppe perché non per le motivazioni perché non posso sapere se è vero o no voi sapete che dico solo le cose di cui sono certa ma la cosa che mi ha fatto veramente imbestialire è stato il modo con cui ha parlato se una persona non ti interessa più è uscita dal tuo cuore e non provi niente per lei e allora non ti rivolgi a lui in questo modo o alla sua nuova compagna ho avuto lo stesso problema con una persona che faceva questo a me e gli hanno fatto notare in tantissimi tante 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 persone che se lui si comportava in questo modo con me era perché provava ancora qualcosa perché se non provi niente cioè fai quello che devi fare senza imprecare senza odiare perché l'odio è un sentimento e va a braccetto con l'amore è sempre un sentimento è solo l'indifferenza che veramente fa male per cui mi ha fatto schifo ma proprio schifo le parolacce le parole che diceva e il gesto che continuava a fare sotto il naso diceva mi prude il naso fai schifo falsa veramente schifo e non ti puoi permettere di dare della poco di buono alla sua nuova compagna perché a te non ha fatto nulla dicevi guarda guarda è Davide che mi sono tatuata sul cuore mio marito non te sì ma falsa quel tatuaggio te lo sei fatto dopo che lui si è fatto tatuare il nome di Veronica e allora tu per i picchi ti sei fatta il tatuaggio e poi gli dai dello come posso dire la parola gli hai dato del poco sveglio di una persona con ritardi e che si è trovato un'altra persona ritardata ti sei vista a chi ti sei sposato tu hai detto che Giuseppe ha delle dipendenze ma guarda che anche Davide le ha ha una dipendenza da te non è che sta insieme con te perché tu sei sei la donna perfetta io non parlo assolutamente dell'aspetto fisico l'ho detto tante volte io conosco una ragazza veramente è grossa grossa ma ha un viso stupendo il cuore di più per cui quando la vedi tu non vedi quanto pesa com'è tu vedi la bellissima persona che è e tu sei brutta dentro sei talmente brutta dentro che tutta la tua cattiveria si riflette fuori tu puoi anche diventare come si può dire tu puoi anche dimagrire arrivare anche a 60 70 chili ma non è questo che ti renderà bella è quello che hai dentro e non potrai mai dimagrire quella cattiveria che hai dentro perché sei stata veramente cattiva e se veramente non ti interessasse niente non avresti fatto quella live perché se a me la persona che ho detto prima facesse un video facesse mi scivola addosso ma neanche se lo vedo per strada non con una ma con tre donne dico cavolo bene adesso se lo cucano loro cioè non mi farebbe niente 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 perché sono guarita nel senso che ho come si dice ho elaborato il male che ho ricevuto ho elaborato gli sbagli che ho fatto anche io perché si sbaglia sempre in due è così destino Dio ha voluto così ed è così ma tu continuando è merdopolo perché lo chiami merdopolo se lui è merdopolo sai tu cosa sei tu sei una montagna di merda cioè ho trovato talmente schifosa quella live che di primo acchito così ho preso il telefono ho detto faccio un video ma poi ho detto per caricarlo con perché internet ce l'avevo solo col contratto che ho fatto del telefono i giga non è che sono tantissimi ho detto ma si aspetto aveva detto dieci giorni infatti per fortuna ha detto la verità perché di solito non la dice mai il proprietario è arrivato il modem nuovo ieri e oggi ho fatto il video non mi esprimo riguardo a Giuseppe perché come ho detto prima è arrivato adesso su youtube ho seguito solo finché era con Chiara e penso che delle cose tante cose che ha detto siano reali perché sono cose che erano già uscite già dette già come le gravidanze finte che ne sfornavi una al momento avevi sempre la gravidanza finta come un asso nella manica come la storia del bidet come la storia tante storie e poi dico una cosa ti sei tanto mamma mi scappano tante parole in italiano ti sei tanto vabbè arrabbiata per la storia che ha detto che è scappato se n'è andato e tu hai detto no che l'hai buttato fuori di casa tu che gli hai detto te ne devi andare per quello non si è portato le mutande carica batterie occhiali eccetera ma allora dico io se fosse io non ti credo ma neanche minimamente se fosse così perché fare fare a Marco da Milano in Puglia per andartelo a riprendere e io mi ricordo non so se vi ricordate voi adesso mi sfugge anche il nome del paese e ce l'ho sulla punta della lingua vabbè non è importante se voi vi ricordate c'è stato un momento che lei ha fatto fare da tramite non mi ricordo il nome della persona per cui non lo dico perché non mi ricordo non sono certa con Giuseppe e questa persona gli aveva detto che lui se ne è andato per salvarla vi ricordate e lei subito si è subito ringalluzzita subito ha detto io vado lo porto lo salvo lo porto qua lo salvo dalla sua famiglia diceva lo salvo io lo salvo ma se l'hai buttato fuori di casa tu perché ste scene madri perché sei una falsa sei una bugiarda patologica io penso che sia come come una malattia a te la verità non esce non esce proprio da quella bocca è come la dieta adesso Davide credo che stia si stia trattenendo per cui prima mangiava proprio a sbaffo proprio tutto adesso si sta trattenendo e dimagrisce piano piano non c'è fretta non c'è non c'è una una targhetta che devi arrivare tot giorno a tot chili ma tu non stai facendo la dieta il video spesa che ha fatto vi ricordate che c'era la scatola di gelati che erano mamma mia le parole limitazione dei mars ha fatto il video spesa si sono visti i gelati ma non ne ha parlato sotto i commenti in centomila gli hanno scritto dei gelati nessuna risposta la nutella deve fare il dolce i biscotti poi dalla colpa i suoceri dalla colpa i nipoti ma cosa tu non stai facendo la dieta tu non stai facendo la dieta a parte la pesata bufala che proprio si interrompe il video non si è mai interrotto la bilancia non ti pesa dà errore perché superi 150 kg e poi hai posato solo un piede è uscito 149 la bilancia giustamente è vero quella elettronica si ferma resta non so quanti secondi un minuto due minuti sul peso e poi si cancella poi doveva esserci un'altra pesata ed ecco che il coronavirus va in aiuto alla falsa a chi ha una falsona perché tutta l'attenzione l'ha spostata là e così il try and all che ha fatto l'altro giorno io non ho parole perché non serve spendere centinaia di euro anche se compri le firme se non hai gusto puoi spendere anche mille euro però se non hai gusto cara cioè dove vai con quei pantaloni verdi il completo bianco non ti fa le pieghe perché è largo ti fa le pieghe perché hai la pancia a grembiule che tu hai sempre sostenuto che hai la pancia piatta e non ti cade ma siccome sei falsa non potevi dire la verità hai la pancia a grembiule ti scende e fa difetto fa difetto perché il pantalone non sta non sta aderente c'è la pancia che scende e sulla piega sotto della pancia fa le pieghe tu puoi andare da tutte le sarte se te li stringono così il marsupio te lo te lo metti proprio in evidenza come coi pantaloni verdi ma non ti vergogni il maglione è largo no? il maglione era perfetto se tu per esempio hai la 56 non ti puoi comprare la 52 ti devi comprare la 56 perché il capo scende morbido non ti segna non ti segna i difetti non segna le forme e così stai bene il maglione che avevi detto è largo non è largo è proprio perfetto per te era l'unico che non segnava niente allora sì perché lo puoi prendere un po' lunghino che ti scenda sotto la pancia puoi mettere un paio di leggis e sei vestita bene ma tu non hai gusto tutti i migliaia di capi di primark che tu dici li metto non li hai messi perché io ho ancora in mente quel chiodo rosa che hai detto lo metto quando sarò dimagrita è passato un anno e mezzo non l'hai mai messo e l'avrai anche buttato perché tu non sei dimagrita e ti ricordo che l'orologio biologico scorre hai 42 anni non 40 42 e se tu volevi veramente un figlio ci avresti ci avresti messo l'anima per dimagrire ci avresti messo ci avresti messo il cuore ma tu non lo vuoi veramente perché come si fa dormire poi come fai adesso ti alzi alle 11 come si fa con un bambino lo devi seguire come quando ti vanti mia figlia è merito mio se è così no è merito di tua madre se è così perché se l'avessi cresciuta tu con i tuoi modi con i tuoi metodi con il tuo comportamento sarebbe come te e ringraziando il cielo è tutto all'opposto di te per fortuna per fortuna non è come te è intelligente e tu sei un ignorante e continui a dare degli ignoranti a tutti noi ignoranti l'altro giorno hai detto sono le persone di merda che dicono così ma ti sei vista tu ti sei vista che dai dell'ignorante che Davide parlava al rallentatore ma ti sei vista tuo marito quando parla quando fa le live adesso ti devo per forza e no e devo cancellarti il commento per forza hai nominato il canale di Suez ma vi rendete conto che siete come degli analfabeti non siete neanche ignoranti siete ancora a livello più sotto degli ignoranti il canale di Suez uno l'ha fatto apposta perché ha detto posso parlare del canale di Suez se no adesso ti cancello il commento perché hai nominato un altro canale ma ti rendi conto e poi dai dell'ignorante a Giuseppe del ritardato hai dato del ritardato a Giuseppe e beh perché tu vivi con un professore Einstein in confronto a Davide tu hai sposato un genio ma solo il fatto che ti ha sposata ti dovrebbe far capire che che non ha tutte le fascine coperte la falsità secondo me che hai non non io sono convinta che fai tutto per soldi ti venderesti anche tua figlia nel senso spiego nel senso come hai fatto che hai detto che anche lei nella piscina fa quello che hai fatto tu che non viene al matrimonio nel senso la venderesti la butteresti in pasto agli squali ecco la parola più esatta pur di fare soldi perché come ho detto in altri video se voi guardate i titoli che mette che li mette lei perché lui non sa neanche accenderlo al computer i titoli che mette nei video spesa c'è ha messo video spesa vergognoso cosa vuol dire video spesa vergognoso siete voi due vergognosi siete voi due vergognosi le falsità io so che magari ci saranno altre cose che volevo dire che ho dimenticato perché sono passati dieci giorni e c'erano tante cose che volevo dire ma quella live là è quella che mi è rimasta più impressa è quella che mi è rimasta più impressa come i bambini nell'altra live che ho fatto l'altra sera che continuava a dire veronica 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 claire 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 lo denunci e per cosa questa volta lo trovo io Giuseppe gli dico io che è lui che ti deve denunciare per le volte quante volte lo hai diffamato non ti ricordi più che hai detto che pur di procurarsi quello di cui aveva bisogno andava con gli uomini ma non ti ricordi più di come lo hai sputtanato in giro e ne hai detto di tutti i colori di lui e della sua famiglia ma sei fortunata che anche la famiglia di Blues non ti ha denunciata perché sono dei signori in confronto a te tu sei proprio un lettamaio con le gambe tu puoi dire qualsiasi cosa però se parlano di te o del muorito genio ah no ho scaricato la live l'ho scaricata ti faccio una diffida una denuncia ma di che ma di che ma di che che lui è a materiale per denunciarti veramente veramente il buccio ti fa Giacomo Giacomo è a ragione tua suocera adesso che Giuseppe fa i video tu pensi che guardi i tuoi e ti sei messa il pizzo ma dove vai ma dove vai poi si mette la mano per coprire cosa vuoi coprire ma non ti vergogni che sembravi lai zaminelli cioè ma dove vai vestita così non hai gusto e con quelle scarpe e dentro i piedi urlavano vendetta cioè ma ti rendi conto voglio vederti andare a Lidl o all'MD vestita così col tagliere alla Elvis Presley con 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 gli strass e col corpetto in pizzo vabbè dimentichiamolo eh la pancia piatta può permetterci cioè dove vai allora siccome pensi che lo guardi tu vuoi fargli ah un'altra vedete mi è venuto in mente adesso non so penso sì in quella live che gli ha detto sei un cornuto sì ti ho tradito tre volte non so come l'ha detto ha detto sei un uomo cornuto ma pensi di aver fatto una bella figura ma pensi guarda che se gli hai dato del cornuto ti sei data della poco di buono da sola a parte che lo sapevamo perché che l'hai buttato fuori tu che non è vero che è scappato lui che è vero cioè una non può dopo 24 ore mettersi su Badù a cercare i morti di patata e mettersi col block notice a fare la lista come le liceali questo 10 ti sei trasformata nella donna del monte c'è palpavano la frutta come si dice la merce dicevano tu dicevi sì ok no non è ok la donna del monte di quarto giaro ha detto sì ma ti rendi conto cornuto ti ho tradito tre volte perché non mi ascoltavi è morito deve stare proprio tranquillo per quello ti ascolta a bacchetta come un cagnolino sai cosa gli puoi regalare adesso a Pasqua un bel collare con scritto Bobby sotto gli metti il numero di telefono perché visto il grado il cuocente intellettivo gli metti il numero di telefono se si perde e lo porti a guinzaglio perché ti manca solo questo ha fatto bene la sua cerina perché ci vede lungo ci ha visto lungo la sua cerina il suocero con te sai cosa ti avrei fatto io moglie non moglie due calci in quel culone e ti avrei buttata fuori ti avrei buttata no in casa mia vieni a comandare e in più urli in più litighi in più mi offendi coi capelli ti avrei presa per i capelli avrei pulito il pavimento quei capelli quei quattro quella paglia che hai in testa 550 mila spazzole non ti petini neanche la mattina vergognosa questo si gli ha detto cornuto e beh lei pensava di essere orgogliosa orgogliosa di lei che l'ha detto brava non ti dico neanche chi ha visto la lei cosa ti ha detto non te lo dico ma te lo puoi proprio immaginare proprio quello sei proprio una donna da sposare una madre di famiglia una donna di casa pensa che bello che tua figlia ha visto il video e che ha sentito che l'hai tradito tre volte che bella mamma la mamma dell'anno è così adesso il sole è calato però ci sono ancora tantissime becco al centro sono tantissime macchine il centro è pieno però io non mi sono mossa di casa oggi mi sono data proprio al riposo alle pulizie ho fatto la spesa di carne e mi sono data al riposo è così vedi tu puoi anche tu dici no puoi anche tu offendi Giuseppe Veronica però vedi loro un po' di dignità ce l'hanno molta più di te hanno il loro appartamentino pulito perché io ho sentito un video di una che ha detto coerenza proprio lei che parla di coerenza la muffa c'era la muffa dove l'hai vista la muffa dove l'hai vista che era un appartamento pulito dignitoso per conto loro non vivono a sbaffo dei suoceri non vivono a sbaffo de 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 aspetta va hanno il loro appartamento pulito lei è invalida lei è invalida vabbè l'avrà detto lui ma perché tu continui a ripeterlo a offenderlo a dirlo in modo dispregiativo può darsi che lui siccome è semplice Giuseppe non ha filtri è quello che ha in bocca nel cuore lo dice l'ha detto perché magari avrà dei punti di invalidità avrà le sue cose che io non lo so e non voglio dire cioè non posso dire non lo so ma in modo dispregiativo come lo dici tu beh anche tu se fai fare una visita al muarito non è che risulti cento per cento eh avrà dei punti anche lui è perché non prendete anche voi una casa magari anche una casa popolare dov'è il problema non c'è nessun problema magari la dissero a me c'è mica una vergogna quella anzi paghi solo l'affitto più basso è solo quella la differenza non è che sia una casa vi prendete un appartamento con tutti i soldi che spende incavolate settecento euro di spesa ma non ti vergogni e bello è che continuate a farne spesa non lo so neanche un bunker neanche un bunker per gli attacchi non lo so di cosa alle scorte che hai tu che ha scorte così lo prendete anche voi e vi fate la vostra vita per conto vostro senza tutto quel casino che hai in giro che quando fai video per far vedere che hai fatto le pulizie tu metti tutto dentro le porti i cassetti imbucchi tutto e fai vedere poi vorrei aprire un cassetto o una portiera cosa mi esce il mondo mi esce e prima le Funko Pop un muro tappezzato di Funko Pop adesso l'attun si è fissata con l'attun ma ah beh invece che 100 euro l'ho pagato 60 ma ti sembra poco 60 euro un piatto in ceramica porcellana ceramica ma penso che l'attun faccia gli oggetti in ceramica penso non so se li fa tutti o se fa qualche oggetto in porcellana non lo so però 60 euro per un piatto ma stiamo scherzando adesso voglio vedere quante volte lo usi e per chi lo usi visto che hai un deterrente che tutti gli amici dopo un mese due tre fuggono come Giuseppe senza carica batteria a gambe levate e un'altra cosa quando fai le stories su Instagram prima di pubblicarle correggi per favore correggi che non si può leggere non si capisce niente quello che dici perché era incomprensibile vabbè amici amici io vi saluto con l'augurio ancora che possiate stare tutti 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 bene e che l'Italia possa prestissimo uscire da questa da questa crisi da questo virus da questa brutta cosa che gli è successa lo spero con tutto il cuore perché ci sono anche i miei figli là vi mando un bacio enorme e adesso che ho internet ricomincerò a fare i video ricomincerò un bacio enorme e al prossimo video ciao grazie mille alle persone che nonostante tutto si sono iscritte al mio canale anche se non c'erano nuovi video e il mio cuore a chi continua a seguirmi dal primo dal primo giorno che ho aperto il canale un bacio enorme grazie mille ciao